in massime confucio in massime 1 1 dice non è piacevole apprendere e continuamente applicare ciò che si è imparato e non è anche una gioia all'arrivo di un amico lontano non è da signori non essere riconosciuti dagli uomini e non averne a male commento nell'evoluto di ogni tempo e paese è sempre presente la consumazione dell'io